Ben ritrovati a tutti ragazzi da Follamente Scacchisti, oggi commentiamo il turno 6 dell'open Aeroflot che si sta svolgendo a Mosca e in particolare vede al primo posto per il momento Rauf Mamedov con 5 punti, nel turno 6 Mamedov patta con Manuel Petrosian. Come inseguitori abbiamo un'importante novità, gli inseguitori in particolar modo Sanan Sugirov che con la vittoria di oggi contro Zvijansev si porta a 4 punti e mezzo, quindi semplicemente a mezzo punto di distanza dal primo posto. Vediamo subito la partita che è stata una delle partite migliori giocate oggi all'Aeroflot, almeno una delle più importanti e iniziamo subito. Allora il bianco, quindi Sugirov, che in tutto questo ragazzi Sugirov è un grande maestro russo che ha quasi 2700 punti Elo, quindi un giocatore molto forte, presente anche molto online, infatti gioca praticamente su tutte le piattaforme. Iniziamo allora la partita, C4, poi E6, la parte del nero, vedete C4 E6, il nero cerca di giocare subito la spinta in D5, quindi cercare subito un controgioco al centro. Ora qui ci sono varie idee, un'idea che è stata giocata da Sugirov è quella di portare l'alfiere bianco in fianchetto, quindi giocare G3. Ora dopo G3 il nero comunque continua con il suo piano, quindi spinge il pedone in D5, come vedete c'è già un attacco al centro. Questa ovviamente ragazzi è l'apertura inglese, in particolare la difesa a G-Court, quindi l'idea appunto di spingere il pedone E6 è D5. Ora il bianco qui ha varie continuazioni, però la principale ovviamente dopo aver spinto il pedone G è quella di sviluppare l'alfiere. Ora qui ci sono tante mosse che possono essere giocate, però il nero in partita decide di giocare una variante alternativa che appunto consiste in questa spinta in A6. L'idea è quella di catturare il pedone C4, quindi alla prossima D per C4 e poi magari consolidare la posizione e magari addirittura difenderlo il pedone con la spinta in B5. Per il momento non è ancora possibile questo, vediamo però che dopo che il bianco gioca cavallo F3 questo diventa possibile, perché ora l'alfiere è un po' tappato dal cavallo in F3, anche se è tutto abbastanza relativo, perché comunque il bianco ha un buon vantaggio di sviluppo in questo momento. Ora il nero quindi cattura, il bianco comunque, dato che il nero è vero che ha guadagnato un pedone, però ragazzi in apertura sono importanti i tempi. Il nero non ha sviluppato ancora pezzi, come vedete, mentre invece il bianco ha già sviluppato alfiere e cavallo in posizione buona. E ora, dopo l'arrocco, sicuramente il bianco è felice del vantaggio iniziale in qualche modo. Ok, l'apertura continua con lo sviluppo del nero, quindi il cavallo va in F6, quindi comunque Zvizianzeb gioca questo sistema alternativo che in realtà è poco teorico e questo da una parte favorisce ovviamente chi lo gioca, perché Zvizianzeb come si vedrà poi in partita, in realtà questa variante la conosceva anche se non era una preparazione eclatante, però comunque i grandi maestri ragazzi conoscono veramente tutto di tutto, quindi anche in posizioni dove sembra che non ci sia teoria magari, in realtà loro hanno molte analisi comunque che tengono per loro, anche per molti anni nella loro memoria. Ora, il petone in C4 è debole, quindi il bianco secondo piano lo attacca con la donna, la donna viene portata in C2, ragazzi è inutile fare donna A4 scacco perché sembra una mossa buona, ma in realtà il nero qui può difendere il petone in C4 giocando semplicemente la spinta in B5, dopo il nero potrà anche mettere l'alfiere in B7 e starà bene, quindi donna C2 invece serve appunto per dire al nero che il petone in C4 in realtà è in presa, non si potrà facilmente difendere. Qui si può anche pensare di fare B5 per difendere il petone ragazzi, però vedete subito che dopo cavallo E5 l'alfiere attacca la torre, si può ancora giocare tutto questo, però il nero farebbe meglio appunto a restituire il petone a una certa perché altrimenti le cose si complicano veramente tanto. Invece il nero decide di giocare cavallo D7, cavallo D7 l'idea è portare il cavallo in B6 e qui il bianco quindi non decide subito di prendere perché a quel punto cavallo B6 potrebbe avere senso, ma gioca A4, l'idea appunto su cavallo B6 è eventualmente giocare anche la spinta in A5, guadagnare dello spazio ed evitare che il nero faccia B5. Ora qui la mossa più giocata è stata appunto la mossa giocata dal nero che è cavallo C5, l'idea è attivare un po' i pezzi e in effetti in realtà si minaccia la spinta in B5. Quindi qui ora il bianco è costretto a prendere una decisione, ora immaginate, pensate un po' qui cosa si può fare, volendo si può anche decidere di catturare il pedone in C4, però dopo questa cosa l'idea di cavallo C5 oltretutto è anche quella di pensare a cambiare le donne, quindi con una mossa di donna, vedete donna D5 attacca la donna, se si cambiano le donne la posizione che ne deriva fuori è una posizione essenzialmente patta, prendete il pedone è meglio perché si sviluppa l'alfiere, quindi il bianco non ha intenzione subito di catturare il pedone, ritarda e secondo piano, perché il piano ragazzi è anche quello di portare i pezzi nello sviluppo, questo cavallo in B1 in questi tipi di variante si porta in A3, quindi ragazzi portiamo il cavallo in A3 e vedete ora questo pedone è un pedone debole, il nero tenta di difenderlo in tutti i modi, quindi gioca B5, ora dopo A per B5, A per B5, ragazzi non si può prendere il pedone in B5 qui perché la torre in A1 è in presa, quindi quest'idea non va bene, però si può fare un'altra mossa, ovvero molto più interessante è quella giocata da Suikirov, che qui si dimostra comunque conoscitore anche di questo tipo di apertura, la mossa è il cavallo D4, una mossa veramente interessante, l'idea è ovviamente quella che l'alfiere può attaccare la torre in A8, l'altra idea è quella che ora questo pedone è in presa, quindi potrà essere catturato, qui l'unica mossa buona per il nero è una, ovvero, vedete se riuscite a trovarla, mettete in pausa il video se volete, vedete, il cavallo in D4 è in presa, quindi volendo la donna potrebbe mangiarlo, però per il momento la torre è sotto attacco, quindi la prima cosa da fare è rimuovere la torre, e quindi qual è il modo migliore per farlo? Magari attaccando, attaccando quindi mangiando il cavallo in A3, e ora qui uno potrebbe pensare, ma come, quindi il bianco ha semplicemente messo un pezzo in presa, perché dopo torre per, donna per, è il nero che sta bene, certo, ma non è questa la variante che Suikirova ha pensato in partita, dopo torre per A3 Suikirova ha deciso di giocare questa mossa, alfiere C6 scacco, molto interessante, dopo alfiere C6 scacco, ragazzi, c'è bisogno di trovare una soluzione, ovviamente non si può mettere un pezzo davanti, perché a quel punto poi il cavallo in D4 non sarebbe più in presa, per esempio mettete l'alfiere, ora il cavallo non è più attaccato dalla donna, perché l'alfiere si è messo davanti, quindi dopo Re7, che è l'unica mossa possibile che si poteva giocare, c'è una sequenza forzata di mosse, che è torre per A3, quindi catturiamo la torre in A3, il nero cattura il cavallo in D4, e il bianco prende il pedone in B5, quindi il bianco in realtà ha dato due pezzi per la torre, però in cambio ora i pedoni sono diventati deboli, e il nero non ha messo il re al sicuro, vedete il re dove si trova, in E7, di certo non è un posto ideale, qui infatti una mossa che poteva essere giocata, era appunto mettere il re in una casella un po' più sistemata, re D8 e cercare di sviluppare l'alfiere, che comunque prima o poi dovrà uscire fuori, invece Ziziansev decide di giocare un'altra mossa, che è molto interessante, l'idea è semplicemente quella di aprire subito le linee del gioco per attaccare, infatti H5 ragazzi, l'idea è fare H4, catturare in G3, ed eventualmente portare tutti i pezzi contro il re nemico, molto semplice, qui quindi Sugirov si trova di fronte a un calcolo importante, perché deve calcolare bene anche in base alla velocità delle mosse, quindi subito decide di portare la torre in C3, quindi attaccando in C4 si attacca la donna, si guadagna un tempo, la donna si deve spostare, quindi questo favorisce un po' il bianco, ora Ziziansev con nero gioca alfiere B7, è un'altra mossa buona, l'idea è quella ovviamente di sfruttare un alfiere, che comunque in questo momento domina in contrastato su questa diagonale, sulla diagonale bianca come vedete, e ora il bianco cattura C4, la donna 25, si minaccia matto in G2 ragazzi, quindi bisogna difendersi con F3, quindi mettere un pedone davanti, ora cavallo D7, ragazzi sono cavallo D7, un'altra mossa che serve anche per dire, questo pedone in realtà deve essere prima o poi difeso, oltretutto questo re non sta messo bene, quindi ha dei problemi per il momento, e quindi è chiaro che si deve trovare una soluzione al più presto. Ok, l'idea, dopo questa mossa il bianco decide di giocare, quindi l'idea è fare anche cavallo B6, cavallo E5, magari attaccare la torre il prima possibile, ovviamente qui il cavallo era attaccato, quindi l'unico modo, ci sono altri modi per difendere, per esempio re D8, però bisogna sempre stare attenti, ora vedete re e donna stanno sulla stessa colonna, ci potrebbero essere delle scoperte, ci potrebbero essere di attacchi alla donna molto fastidiosi. Dopo cavallo CD7, il bianco ha giocato a fiere C6, attacca a fiere donna, quindi un'ottima mossa per cercare di cambiare un pezzo, soprattutto questo a fiere che è molto forte, dopo a fiere per C6 uno potrebbe dire, vabbè, allora catturiamo subito in C6, però questa cosa non è stata giocata in partita, è stata prima giocata la mossa E4, quindi deviando prima la donna, non c'è fretta di catturare il pezzo, e ora dopo donna B5, si può catturare finalmente l'alfiere, ora si attacca a C7, e il re bianco non è più in pericolo come prima, ovviamente il nero deve continuare ad attaccare con H4, e poi il bianco chiude giocando G4, quindi per il momento il nero non ha ancora un attacco preciso, dopo cavallo E8, il nero difende il pedone in C7, il bianco può quindi sviluppare un poco i pezzi, vedete questo alfiere non ha ancora trovato una casa per svilupparsi, quindi il bianco decide di sviluppare il pedone, e dopo questa mossa, ora il vero problema rimane sempre 1, il re nero dove deve andare, Ziziansev quindi decide di giocare una mossa prudente, che è F6, l'idea è appunto liberare una casa, la casa di F7, e quindi dare un po' di aria ai pezzi, quindi ragazzi, le partite molto tattiche sono fatte un po' così, magari si ritarda lo sviluppo dei pezzi, si cerca in tutti i modi di trovare un'iniziativa, attaccare, però poi c'è una fase di sviluppo in cui tutti e due si devono un attimo risistemare, perché altrimenti la partita non andrebbe più bene per uno dei due giocatori, perché a quel punto poi vincerebbe chi ha lo sviluppo migliore. Ok, quindi dopo F6, l'alfiere si sviluppa, anche il re trova finalmente una casa di fuga ideale, e ora il bianco decide di fissare tutta la struttura sul lato di re, giocando H3, quindi bloccando il lato di re, e aspettando quindi un po' il gioco del nero. L'unico problema quindi per il nero in questo momento è, c'è un pedone debole in C7, cioè il re è difeso dal pedone in E6, ma non è che sia tutta questa grande cosa, se il bianco comunque sta già in vantaggio qui. Vedete che comunque c'è una certa iniziativa, donne e torre sono forti, la torre in F1 prima o poi andrà in A1, e quindi controllerà un'altra colonna. Ora il nero decide di giocare a fiere B4, questa mossa in realtà non spaventa il bianco che continua in suo piano con torre A1, l'idea è quindi quella di approfittare della colonna aperta e magari portare questa torre finalmente in A8. Infatti il nero previene questa cosa giocando alfiere A5, non consente al bianco di ottenere altro spazio. Ora qui il bianco si risistema ulteriormente e gioca a re G2. Perfetto. Continuiamo un po', la partita è proseguita con cavallo D6, ora quindi si cerca un po' il controggioco, C7 non è veramente attaccato perché l'alfiere in A5 difende C7, quindi non è per nulla attaccato, il cavalline 8 si sposta anche per dare vita alla torre che può andare magari in B8, attaccare questo pedone in B2, che è l'unica vera debolezza del bianco in questa posizione. Ok, il bianco gioca al fiere F2, l'idea di al fiere F2 ragazzi è quella appena la torre si sposta, il bianco comunque può decidere di catturare questo pedone e quindi relega un po' questa torre alla difesa del pedone in H4. Quindi il nero a questo punto decide di cambiare piano e decide quindi di attaccare un altro punto debole, un altro punto che è difeso solo dall'alfiere, che è il punto D4, giocando al fiere B6. Al fiere B6 quindi cerca di attaccare questo pedone e se il bianco magari catturasse in H4, il nero si potrebbe rifare sul pedone D4 e quindi poi dopo la presa in D4 si potrebbe anche decidere di attaccare il pedone B2. Ma il bianco comunque continua il suo gioco tranquillo, non ha interesse per il momento a fare manose particolari di alfiere, qui non si può fare questa perché comunque c'è ancora la torre. Torre A3, l'idea è giocare torre B3, a attaccare quindi la donna e magari anche raddoppiare sulla colonna. Torre B8, torre CC3, l'idea ora è giocare torre B3, attaccare la donna, cercare piano piano di eliminare le possibili case in cui può andare la regina, praticamente. Vedete, il nero comunque non gioca torre B7, è una mossa comunque di per sé passiva, non aiuta il nero ad attivarsi in alcun modo, il bianco mantiene questo vantaggio di spazio grazie a questa catena di pedoni al centro che veramente toglie molte case ai due cavalli che purtroppo non sono attivi in questo momento. Quindi il bianco comunque continua il suo attacco, attacca la donna, ora c'è una prima ripetizione, donna C4. Qui sui quei love pensa un attimo perché giustamente può attaccare la donna, donna può andare solo in B5. Dopo questa prima ripetizione sui quei love può anche accontentarsi della patta, però in una posizione del genere accontentarsi della patta sarebbe un po' poco, infatti sui quei love alla fine decide di cambiare le donne e dopo che il cavallo arriva in C4 viene attaccato con la torre in A4 che si sposta in A4 e ora come vedete dopo il cambio delle regine in realtà c'è un vero problema. Il problema è che la torre ora attacca il cavallo ma allo stesso tempo difenderà il pedone D4. Quindi dopo che la mossa di Ziziansev cavallo D6 ora a questo punto il pedone D4 è difeso dalla torre e quindi il pedone in H4 che invece è indifeso può essere catturato. Quindi qui il bianco dopo questo cambio di regine che ha favorito ovviamente il bianco questo finale ora il bianco può giocarlo con un pedone in più. Ora vediamo quindi come come un grande maestro del livello di Suikirov quindi un 2700 converte il finale contro un giocatore grande maestro del suo livello. Ora il nero qui è arrivato in questo finale per cercare di attivare un po' i pezzi e quindi il nero decide di giocare E5. Quindi l'idea è cambiare il pedone in D4 e magari portare questo cavallo finalmente in E5 dando un po' di vita. Ma il bianco invece difende con molta accuratezza il pedone in D4. Dopo questi cambi ora il alfiere può catturare in D4 però catturando in D4 ragazzi ci potrebbe essere tranquillamente prima torre per V3 cavallo per V7 torre per V4 e ora è vero che il nero ha due cavalli però la posizione è favorevole alla torre perché in gioco aperto la torre è favorita molto favorita e oltretutto comunque il bianco mantiene quel pedone di quel due pedoni di realtà di vantaggio in questo caso vedete 1 e 2 due pedoni di vantaggio quindi sicuramente il bianco sta molto meglio qui infatti è giocata a C5 in partita è stata giocata per evitare appunto ulteriori cambi di pezzi il bianco ritorna con alfiere F2 poi G5 quindi il nero cerca di ottenere un po' di spazio sul lato di re e finalmente le ai torri cominciano ad essere molto più pericolose rispetto a prima ora quindi si minaccia appena questo cavallo si sposta un attacco su B6 quindi c'è pressione da parte del bianco il nero decide di giocare quindi cavallo C4 per un po' per difendere un po' per cercare di controattaccare un po' dare fastidio togliere magari delle case al bianco qui ora il bianco Sanan gioca una mossa molto precisa riuscite a individuarla fate conto che qui ci sono due pedoni qui invece ce ne sono ben 4 contro quindi immaginate la mossa è ovviamente cercare di costruire di ottenere un pedone passato H4 da parte del bianco l'idea è ovviamente spingere questo pedone ragazzi questo pedone si rivelerà decisivo il nero qui avrebbe dovuto catturare in H4 la posizione in ogni caso non sarebbe stata buona neanche dopo questo cambio perché in ogni caso il bianco alla lunga spingerà il pedone F in futuro il pedone G e comunque il pedone passato ce l'avrà sicuramente però il nero decide di giocare torre C7 l'idea è semplicemente aspettare un attimo e vedere un attimo cosa fa il bianco ma il bianco qui non se lo fa ripetere gioca H5 a questo punto il bianco ha ottenuto un pedone passato e questa è una prima debolezza poi ce ne sarà anche un'altra in futuro come vedremo qui il bianco già sta in una posizione vincente quindi è solo questione di tempo prima che il bianco riesca a conversare per dire questo vantaggio il nero ha un po' i pezzi legati non può fare mosse buone immaginate per esempio a questa torre A7 sembra una mossa per cambiare i pezzi ovviamente non dovete cambiare qui ragazzi perché ovviamente qui potrebbe cioè in realtà il nero ha ottenuto magari un cambio ma in realtà qui è molto molto semplice ragazzi se usate un po' di tattico torre per B6 e quindi qui ora la torre non ha più una difesa quindi dopo quello per c'è torre per A7 se il nero cattura in A6 torre per A6 il bianco ha guadagnato un pezzo quindi ragazzi non si può neanche semplificare la posizione torre C6 serve magari per risistemare magari portare un'altra volta il cavallino E5 spostare l'alfiere e cercare di cambiare le torri ma la posizione rimane tragica perché in ogni caso H5 va va quindi Sanan Sugiro ha giocato veramente un finale di alto livello qui niente da aggiungere qui ora gioca anche un'altra mossa alfiere G3 che è molto anche un po' provocatoria perché significa che ora il nero non può neanche tornare in C7 non può tornare con la torre in C7 perché ora l'alfiere si trova su questa diagonale il nero tenta a questo punto di portare il cavallino E5 secondo il piano ma a questo punto i cambi favoriscono il bianco dopo questo cambio torre D3 ora la torre può andare in D5 si attacca il cavallo il re nero difende il cavallo in D7 ora la torre va in D5 e questo cavallo è un po' bloccato in questo momento perché ora questo pedone cadrebbe questo alfiere è inchiodato perché sotto la torre verrebbe catturata a questo punto muovere il re non avrebbe comunque senso perché ragazzi questo pedone prima o poi deve essere spinto questo re deve al momento opportuno anche tornare se conoscete la regola del quadrato ragazzi il quadrato del pedone in questo momento è E8 scusate E8 E5 H5 H8 quindi il re fino a quando si trovano nel quadrato può ancora da solo sostenere e prevenire la spinta del pedone però se non non si trova nel quadrato rischia di far promuovere anche questo pedone con i cambi di tutti i pezzi ora il nero quindi è costretto a giocare C4 il bianco il bianco fa Rf1 torre E6 nero difende E5 e libera un po' il cavallo da questa inchiodatura possiamo definire la tale questo sovraccarico e dopo torre B5 ragazzi si è ancora pressione sul punto B6 allora il re nero tenda di portare a questo punto il re verso l'alfiere cercando di quantomeno chiudere il lato di donna portando magari il re in B7 ma la torre è arrivata in G8 attacca a G5 a questo punto quindi la posizione può solo che peggiorare infatti addirittura qui è da apprezzare come sgioca su Ikirobo perché decide neanche di non catturare il pedone in G5 ma di migliorare la posizione dei suoi pezzi dopo Re C6 quindi la torre bianca è attaccata va in D5 torre E7 da parte del nero non cattura in G5 il pedone il bianco bensì dà scacco quindi porta il re indietro quindi guardate un poco questo re nero il re nero non sa veramente dove andare chi aiutare bastano quindi queste due torri sono molto più forti e coordinate di questo cavallo e di questo alfiere che comunque non hanno svolto neanche non hanno svolto un ruolo in questa partita ora finalmente addirittura non è il caso di prendere il pedone in G5 ma ragazzi se avete un pedone passato spingetelo perché è molto più importante il pedone passato dopo alfiere d4 re 2 il bianco semplicemente sviluppa mette i suoi pezzi in modo attivo l'alfiere mangia il pedone ora il re blocca tranquillamente questo pedone che va a promozione quindi non ci sono problemi il bianco non è interessato a catturare il pedone in G5 come vi ho visto ma gioca torre G7 e continua a spingere il pedone ora qui il nero non può giocare torre 8 perché altrimenti perderebbe il cavallo e quindi decide di catturare in G7 ma dopo questa cattura ragazzi H per G7 il cavallo torna in F6 perché altrimenti ci sarebbe la promozione ma dopo l'ultima mossa di Shikiro vedete se riuscite a trovarla anche voi non è difficile da trovare torre A5 ragazzi qui il bianco minaccia torre A8 e la promozione per sfortuna del nero questo piano non si può fermare immaginate perché portiamo per esempio il re in B7 e in B8 la prima cosa che ovviamente viene in mente è il doppio al re e all'alfiere quindi il nero qui può abbandonare tranquillamente dopo torre A5 infatti anche un grande maestro come Gintziansev ovviamente a questo punto non sa neanche cosa fare quindi ragazzi anche se avete cavallo e alfiere non è detto che è sempre favorevole una torre da sola con un pedone passato può essere realmente decisivo e questo è il caso per esempio in cui bisogna ricordarlo è uno dei casi in cui voi potete applicare questo principio insomma se avete un pedone passato e una torre o addirittura due torri attive il nero può anche avere più pezzi però la differenza poi alla fine la fa l'attività quindi nel finale ragazzi ragazzi è importante sia il re ma anche l'attività dei pezzi quindi queste due torri che hanno giocato in precedenza sono state veramente devastanti quindi complimenti a Sanan Suikirov per l'ottima partita giocata con questa vittoria come abbiamo già detto prima si porta a 4 punti e mezzo quindi per ora ha un secondo posto vediamo come proseguirà il torneo l'aeroflot di questo grande maestro vedremo anche poi Mamedov e i seguitori ce ne sono tanti qualcosa succederà insomma chi vincerà alla fine questo torneo ragazzi io vi mando un grosso abbraccio mi raccomando lasciate un like al video iscrivetevi al canale e ci sentiamo presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti